Ciao ragazzi, 365 giorni con Vale Vi faccio vedere un paio di orecchini Questi qua, come potete ben vedere Sono belli, me li sono comprati, però non riesco a metterli Perché, allora, riesco a infilarli, però mi fa male un casino chiuderli E vabbè E vabbè O un orecchino in meno E con questo è tutto, ciò, alla prossima